Ninja Epsom è un divertente gioco a missioni con un gusto retro e una grafica stile 8 bits. Il gioco ci presenta diverse missioni da affrontare, essenzialmente sono sempre le stesse ma aumentano le difficoltà per guadagnare xp e salire di livello. Ci viene anche data la possibilità in game di guadagnare monete per poterci così permettere di sbloccare bonus come avere più vite, altri shuriken e così via. Ad ogni completamento di missione ci viene dato un forziere da aprire per ricevere un premio. Se poi vi stufate di fare le missioni potete sempre giocare la modalità endless per vedere quanto riuscite a resistere. La modalità endless si sblocca al primo livello. I comandi sono semplici, tap sinistro si salta, doppio tap sinistro doppio salto e con il tap destro si sparano le stelline ninja. Il gioco prevede gli achievement di google play. Enjoy! Enjoy! Forse! Forse! Ergutate! Grazie a tutti. Grazie a tutti.